Solo ha creato un genere, l'ha divulgato, ne è stato il leader incontrastato per tantissimi anni e soprattutto ha influenzato tantissime altre forme di musica successive al funky, un assoluto il rap. Questo personaggio è uno degli artisti più copiati al mondo, più campionati, cioè le sue musiche vengono proprio utilizzate per fare altre cose. Sto ovviamente parlando del grande, unico, James Brown. Allora, James Brown ci ha lasciato nel Natale di qualche anno fa e questo vi fa già capire molto del personaggio che sicuramente avrà pensato. Qualcuno di famoso è già nato a Natale, io muoio a Natale. E quando ci siamo svegliati quel giorno e abbiamo visto sui siti che se n'era andato, mi sono sentito con molti miei amici e nessuno riusciva ad immaginarsi cosa sarebbe stata la musica dopo James Brown, perché per noi c'era sempre stato James Brown. Lui è stato un grandissimo del soul e soprattutto ha creato il funky. Quindi alla fine degli anni 60, tra il 67 e il 68, lui ha fatto dei pezzi che hanno fatto scuola e hanno creato il tipico groove della musica funky. Vi faremo sentire un medley dei pezzi più famosi di James Brown. Partendo da quello che secondo noi è veramente la nascita del funky, Cold Sweat. Grazie a tutti. 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 Sous-titrage ST' 501